Mi trovo a Pirito in pronuncia di Salerno presso l'Aula Consigliare Antonella Polito. In occasione del workshop dal titolo Landscape Cilento, la ricerca del benessere attraverso le abitudini del buon vivere. Tale workshop rientra all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 promosso da ASVIS. Lo ritengo di fondamentale importanza l'incontro effettuato stamattina perché si comincia finalmente a programmare il futuro. Programmiamo il nostro futuro, il futuro del territorio del Comune di Pirito, ma Pirito ovviamente è inserito in un contesto molto più grande che sarebbe il Parco Nazionale del Cilento. In generale le aree interne, quindi noi purtroppo siamo particolarmente nelle aree deboli, praticamente per aree povere. Così come dicevamo nell'incontro di stamattina nella presentazione della start-up del Festival dello Sviluppo Sostenibile, abbiamo siglato un accordo, una convenzione tra il Comune di Pirito, l'Associazione Italiana Cultura per il Trasferimento Tecnologico e la Fondazione Ambioraggio, dove il nostro obiettivo è far incontrare domande e offerta. Complimenti al sindaco Carlo, sindaco di Pirito, con la sua amministrazione per il lavoro che stanno facendo ma soprattutto per quello che stanno mettendo in gambo come idea di futuro. Io penso che oggi le amministrazioni che hanno, che programmano, amministrazioni che puntano sulla sostenibilità e che creano confronti come quelli di oggi, particolarmente vivi, particolarmente utili e particolarmente concreti, io penso che sia veramente un segnale di incoraggiamento per un territorio come il nostro. Daniele, grazie. Io ti ringrazio come sempre di essere presente nelle nostre manifestazioni e non farti mai scappare i nostri inviti. Il bilancio, mi chiedi, fantastico. Non potevamo festeggiare il nostro primo anno di amministrazione meglio di oggi con questa giornata. Si parte, come dicevo qualche tempo fa, con una serie di eventi. Il primo vedrà Pirito, ma il cilento, ospite alla Igueglie, in provincia di Savona, nell'ambito degli eventi realizzati per JetScene dalla Fondazione Ampioraggio, nella quale domande e offerte tra privato, pubblico e social innovation si troveranno a proporre le loro sfide, le loro call e quindi speriamo che Pirito riesca a portare a casa la concretezza di quello che oggi ci siamo detti.